Non ce la farò mai, è impossibile, ogni giorno è sempre peggio, sempre più caldo e arrivano sempre più notizie di mercato, stai lì a seguirne una e via, derapata e ti sfugge, ma quante novità, il cinguettio degli uccelli vi sta bene o devo chiudere la fine? Non me la fate più perché fa un caldo che stramazzo al suolo, anche mi sono alleato con Super Mario e anche lui poverino sta faticando. Andiamo a ritroso e poi come sapete qua è un bombardamento continuo, andiamo a ritroso, la Juve ci scippa, ci frega, ci ruba, utilizzate il termine più consono, cabal, e questo quanto emerge nelle ultime ore, anzi nell'ultima mezz'ora, scatto cabal, no? Scatto Juve sull'Inter per cabal. Il colombiano del Verona è un passo, la volontà dei bianconeri è quella di chiudere in fretta per il giocatore per una cifra che dovrebbe aggirarsi tra i 10-12 milioni bonus compresi. Cabal, questo difensore del Verona che l'anno scorso ha giocato 1498 minuti per un totale di 22 presenze nella scorsa stagione di Serie A con il Verona, come dicevo appunto prima, va un po' ad ampliare lo scocchiere difensivo della Juventus, non credo che l'Inter avrebbe mai speso 10-12 milioni per questo prospetto di giocatore, cioè per un giocatore che veniva anche all'Inter sostanzialmente da riempitivo, invece la Juventus ritiene che questa somma sia congura e quindi sicuramente apprezza il giovane difensore colombiano, mamma mia! E andiamo adesso al ritroso, però dobbiamo parlare di un altro accordo in chiusura, Castro Villari se ne va alla Lazio, il centrocampista che era svincolato, firmerà un contratto triennale a 2 milioni di euro, in settimana appunto è prevista la firma. Per quanto riguarda i numeri, la scorsa stagione con la maglia viola soltanto 7 presenze, 1 gol e 2 assist perché sappiamo che ha avuto un lungo infortunio al ginocchio e il problema è proprio questo di Castro Villari, questo è un giocatore che a me, ragazzi, la prima volta che l'ho visto giocare, veramente ti concilia non il sonno, ti concilia proprio il sentimento perché è un giocatore che sa trattarla alla palla, a me piace, spero che possa ritrovare continuità e soprattutto delle condizioni fisiche che lo facciano rendere, perché questo è un bel giocatore, però il problema sono stati gli infortuni, speriamo, speriamo bene, speriamo bene. Alla Fiorendina invece, Pongracic, domani le visite mediche, chiusura dell'operazione, 15 cucuzzelle, non roba da poco per il difensore che abbiamo visto anche all'Europeo, con la Croazia, in realtà tutta la stagione con Lecce, è un difensore senza ombra di dubbio, attendibile, 15 milioni è affidabile, un test che è attendibile, perdonatemi, do i numeri completamente, ma in questo genere di contenuti lo sapete già e quindi un pochettino una parte di voi cerca di compiattirmi, io sto lì ad apprezzarlo e a ringraziarvi per questo motivo qua, 15 milioni quindi per Pongracic, hai capito un po' la Fiorentina eh? Classe 97, il signor Marin Pongracic. Per quanto riguarda Kupemainers, il giocatore più discusso, non prendiamoci in giro perché poi qua parliamo di questo, di quella, in questi giorni si parla Kupemainers, Lukaku, l'altro giorno ancora si parla di Morales, questi sono i nomi, Kupemainers sta sempre lì in cima alla lista e oggi ha parlato per Cassi, che sostanzialmente qui da titolo gela la Juve, la cessione di Kupemainers non è nei nostri piani, cosa doveva dire? Cioè l'Atalanta tranquillamente non ha bisogno di cedere nessun giocatore, lo sappiamo bene, ne conosciamo i bilanci, sappiamo come funziona, ma sappiamo appunto che qualora arrivasse l'offerta importante per l'Atalanta nessuno è incedibile, come giusto che sia, come giusto che sia, perché sostanzialmente l'Atalanta fa il prezzo e non scenderà sotto quelli che secondo me sono i 55-60 milioni, se la Juventus si presenterà con questa somma, che sia nei piani o meno la cessione, verrà ceduto, è molto molto semplice, è molto molto lineare, basta fare 2 più 2 per quanto mi riguarda, quindi vediamo un pochettino se la Juventus questi soldi li troverà o meno. Todiboh pare che sia invece vicino al West Ham, si era parlato del francese classe 99 che era appunto nel merino dei bianconeri, però il Nizio sembrerebbe aver accettato l'offerta da 35 milioni, cioè 35 milioni sono bei soldi, però quanto ci riporta Fabrizio Romano, pare che l'ex Barcellona avrebbe preso tempo, quindi non è che sta, è un po' titubante, mosso dalla forte volontà comunque di trasferirsi a Torino, vediamo un pochettino se Giuntoli fa una contromossa e accelera oppure no, poi ragazzi i giocatori in lista sono tanti, vediamo un po' quello che succede, interessante anche la trattativa Abram, perché Milan oltre Morata lavora su più fronti per portare un altro, perlomeno un altro, ribadiamo, attaccante a Milano, tra l'altro oggi abbiamo visto Morata, dichiarazioni, cose, è arrivata, è arrivata, è arrivata, non abbiamo discusso, perché stiamo qui di nuovo a parlare, nel cardenone dei nomi che appunto c'è finito anche Abram, con Fulgru, Abram in uscita dalla Roma, l'inglese sarebbe il preferito, diciamo che sostanzialmente Fulgru è considerato un piano B, ah quindi Abram preferito e Fulgru è piano B, eh sta roba non è che, ti dico la verità, secondo Pedullà, non serviranno però contropartite per abbessare il prezzo del cartellino, i giallorossi infatti puntano a monetizzare il più possibile dalla cessione dell'ex Chelsea e chiedono tra i 20 e 30 milioni cash, 30 milioni cash per Abram onestamente ad oggi non li caccia nessuno, forse neanche 20, onestamente se consideriamo Morata pagato 13, ovviamente direte voi altre, stiamo parlando di un giocatore che ha un'altra età e tutto quello che ha, ma 20 milioni per Abram, secondo me oggi, per quello che abbiamo visto recentemente, il Milan non li caccia, ma non li caccia nessuna società, magari verrò smentito adesso, sto caricando il video, no no, il Milan paga 25 milioni, tutto può essere il caccio, ma io credo che alla fine vadano abbassate le pretese della Roma, qualora si voglia andare davvero in fondo alla trattativa. Non ne ho parlato ieri, me l'ero proprio completamente persa sta roba, titolata o meglio, firmata, scritta, postata, redatta, fate un po' voi signori miei, da Gianluca Di Marzio, Mattia Solè, Mattia Solè ha raggiunto l'accordo con la Roma, questo ieri, 19 ore fa, signori miei, come detto lo scorso 13 luglio, l'argentino vorrebbe trasferirsi in giallo-rosso in caso di addio alla Juventus, già aggiungendo l'accordo economico. La Roma ora si presenterà alla Juventus con un'offerta da 25 bigliettoni, bonus compresi, per acquistare il cartellino del giocatore. Stessa offerta avanzata dall'Eister, quindi va a pareggiare, no? L'offerta del Leister che nei giorni scorsi aveva presentato, diciamo, 20 milioni più 5 di bonus. I giallorossi inoltre fanno levo sulla volontà del giocatore, ovviamente se hai strappato il seed del giocatore tutto diventa più più semplice. La Juventus pare invece che comunque continui a chiedere una somma che si aggiri tra i 35 e i 40. Onestamente, gran giocatore, a me sull'è piaciuto tanto, 35-40 milioni sono un po' eccessivi per quanto mi riguarda, perché la seconda parte del campionato non lo ha visto splendere come la prima, secondo me. Quindi, caccia 40 cucuzze oggi non è facilissimo, è ovvio che la Juventus ci provi, parti da una cifra più alta per poi scendere. si potrebbe andare a chiudere a 25, 25-30, questo sarà secondo me il prezzo. Vediamo, il fatto sta che Solè è un giocatore che mi piacerebbe vedere a Roma, ecco, perché sicuramente De Rossi lo impiegherebbe, è una sorta di Dybala 2.0, quindi sono molto molto curioso. E chiudiamo con un'altra notizia che arriva dalla Gazzetta dello Sport, ma ne ha portato un po' ovunque, la Gazzetta dice Lukaku vuole solo Conte. l'intesa tra Napoli e Cessi è possibile a 25 milioni. Andando un pochettino nei dettagli, l'avvocato del Lediur sta lavorando da tempo col Chelsea, che vorrebbe venisse pagata la clausola recessione da 37,5 milioni di sterlini. E chi cavolo te la paghi, ragazzi miei, dopo le ultime stagioni? Più o meno 44 milioni di euro. Ma che già sa che per chiudere definitivamente la parentesi Lukaku dovrà accontentarsi più o meno dalla metà. Il punto di incontro tra club potrebbe essere a metà strada per un affare di circa 25 bigliettoni. E Lukaku per Napoli e per Conte è pronto a ridursi lo stipendio già sceso dall'anno scorso scutate alla Roma dove prendeva 7,5. Vediamo, vediamo. È normale che Lukaku voglia soltanto ritornare da Conte perché praticamente è stata la sua miglior stagione. Cioè la miglior stagione di Lukaku è tra le braccia del signor Antonio. Quindi non prendiamo Cianjira. Se c'è un allenatore che può tirare il meglio da Lukaku è Antonio Conte. Per cui credo che sia nell'interesse di entrambe che si trovi un accordo. Io per il Chelsea ormai secondo me non ne può più di rivederselo rimbalzare continuamente con l'Inter. dall'Inter hanno avuto tra virgolette una sorta di fregatura perché davvero l'Inter quando riuscì a monetizzare 118 milioni è una cifra folle, paurosa, non ricordo adesso precisamente ma da allora è stato sempre rimbalzato. E quindi ritornare ad essere allenato da Conte potrebbe essere la soluzione. Sono curioso ovviamente tutto è legato alla cessione di Osimene se deve vedere un pochettino se il Paris Saint Germain affonda tutte le varie situazioni. Ma questo potrebbe essere il colpo del Napoli per sostituire Osimene. E vi dico che a determinate cifre a me piacerebbe vedere Lukaku di nuovo allenato da Conte. Ci possiamo divertire. Meretti prolunga con la Juventus accordo fino al 2028. Giusto notizia no. Last minute Morata convinto dalla fiducia di Ibrahimovic. vediamo un pochettino se c'è qualcosina qua su OneFootball. Ah su OneFootball due robe fatemele dire perché c'erano altri articoli molto interessanti. Sì, sì, sì. Napoli viva l'idea. Visto che siamo solo sul Napoli. Viva l'idea chiesa. Sostanzialmente come riporta il Corriere della Sera non è ancora tramontata. L'ipotesi di portare al Maradona, no? Il centrocampista barra esterno, barra ala, barra attaccante Federico Chiesa. Scusate se ho i numeri. L'ex Fiorentino è valutato circa 25... Perché poi dire l'ex Fiorentino? Federico Chiesa. Giocattore della Juventus. Valutato circa... Io mi incazzo come te. Valutato circa 25 milioni. Che sono gli stessi di Raspadori. Possibile allora che i due possano finire al centro di uno scambio tra i club. Io vorrei vedere anche Raspadori sotto Conte però. Lo vorrei vedere un po' a Raspadori sotto Conte. Roma. De Rossi vuole 12 volti nuovi. Questa è tosta, ragazzi. Questa la dovete sentire. Giallorossi sono pronti a una mini rivoluzione interna. Come anticipato da Repubblica. Oh, Repubblica sta lì sempre a sparare, ragazzi. De Rossi avrebbe chiesto 12 rinforzi al DS di Solfì. 12 rinforzi, ragazzi. C'è tanta Roma. Lazio. Pedro svela il suo futuro. Perché che ha fatto Pedro? Mi piace stare qui assieme ai compagni e ai tifosi della Lazio. Questo sarà il mio ultimo anno. Non so se smetterò di giocare a calcio. Ma fino a quando starò qui dovrò tutto per il gruppo. Nuovo Pedro, grande Pedro. Io li voglio bene a Pedro. Perfetto, ragazzi. Ne abbiamo dette tante. Forse anche troppe. Siamo andati oltre 14 minuti. Quindi vi ho fatto una testa tanta. E mi starete maledicendo. Non ci sarete neanche arrivati a questo foto. Ma vi voglio comunque bene. E vi abbraccio caramente. Un grande paolo. Venivo da Nadochi. So qui a registrare. So sudato di nuovo come un maialotto. E andrò di nuovo a farmi una doccia. Questa è la mia vita. Questa è la mia giornata. Un grande abbraccio. Questa è la mia giornata. Questa è la mia giornata. Questa è la mia giornata. Questa è la mia giornata.